Musica Chiusura e ribasso per Piazza Affari. Al termine delle contrattazioni il Fuzzi Mib segna un meno 0,65%, a 23.075 punti. Sulla scia delle previsioni Istat sulla crescita per il 2,14 e il 2,15, al di sotto delle stime governative, Milano si aggiudica la maglia nera d'Europa. Ma pesano anche i dati macroeconomici targati Bruxelles. In negativo troviamo Amsterdam, Bruxelles e Francoforte. Lieve rialzo invece per Parigi. In rosso l'intero comparto bancario chiude la seduta in negativo BPM nel primo giorno dell'offerta in borsa per l'aumento di capitale da 500 milioni di euro. Il titolo dell'Istituto archivia la giornata con una perdita dello 0,08%, risultando comunque tra i migliori del settore. Fa eccezione MPS che dopo una giornata in negativo chiude a più 3,17%. Dopo 5 sedute in rialzo lunedì in negativo per Mediaset che lascia sul terreno l'1,9%. Male anche Telecom Italia Media che c'è del 6%. Segno più invece per Toz e Tern.